Bene, adesso ti collego. Wi-Fi o si dice Wi-Fi? Perché non entriamo e basta? Ehi, c'è nessuno qui? Ed ecco che siamo online. Dad! Dove stai andando? Aspetta, ragazzino! Porca paletta. Siamo in internet. Fa finta di niente, non dare nell'occhio. Un trucchetto per liberarti del grasso di eccesso. Delle casalinghe, vogliono conoscerti. Davvero? Questo signor Goggle deve essere importante se gli hanno dedicato un palazzo intero. Reindirizzo su eBay. Signore e signori, il prossimo articolo dipinto a olio su velluto di un lacrimevole micetto. 300. 315. 320. 325. Oh, cavolo, questo tizio è forte. Senti qua. 27.001. Venduto! Sì! Manca solo il numero della carta di credito. Che cos'è la carta di credito? Ci deve 27.000 e un dollaro. Dollaro? Perciò soldi? Si va in scena. Sgommiamo. Non è fantastico! Per niente! C'è da impazzire qui. Andiamo a casa? Vieni con noi, mocciosa. Che succede? Internet sta crashando. Ho un attacco di panico. Andiamo, Raz! Spacca tutto! Cosa? Questa zona viene chiamata Darknet. Si aggirano tipi loschi qui. Ma in qualunque caso non fissare il suo fratellino. Oh, ha un fratellino? Ehi, chi stai fissando? No!